Sono la dottoressa Borsoi del servizio igiene di Brunico. Prevenire è meglio che curare, la vaccinazione protegge. È la nostra arma più efficace. L'Alto Adige vaccina. Vaccinar si protegge. Vaccinar si protegge. Vaccinare protegge. Vaccinar si protegge. L'Alto Adige si vaccina. Vaccinare protegge per me, per te, per noi. Vaccinare protegge.